Prima un mazzo di rose, poi un anello. Il 23 dicembre 2003, 11 colpi di pistola calibro 7,65. E' così che Michela Falleri, 26 anni, è stata uccisa dall'ex fidanzato Lorenzo Bitini, ex guardia giurata 35enne di Cortona. Un femminicidio per una storia finita per l'impossibilità di riallacciare un rapporto, un omicidio perché la vittima aveva scelto di vivere la sua vita. La scena del crimine è l'ascensore di un condominio a Madonna Alta, periferia di Perugia. In quel condominio c'è il laboratorio fotografico dove Michela lavorava e dove Lorenzo lo andava a prendere quando erano una coppia di fidanzati. Poco dopo le 17 la ragazza conferma le sue scelte, l'uomo non le accetta, le considera un affronto e spara. Dopo l'omicidio fugge, i poliziotti della mobile lo catturano a Camucia. Al processo, con il rito abbreviato, l'imputato viene condannato dal giudice Paolo Micheli a 30 anni di carcere. Il PM Manuela Comodi aveva chiesto a 27 anni. L'appello porta il dimezzamento della pena. Definitivi 15 anni di carcere.